Adesso mi deve... Oh! No, regà! Ma regà! Io citto! No, lo dico! Lo dico! Io citto! Eccole! La verità è questa! Si chiamano Vesta e buios! Ma ragazzi, ma che pigna io ho tirato! Come si permette quello, ragazzi? Come si sta permettendo, regà? Ragazzi, come si permette? Due Uno Si è permesso? Ce l'abbiamo uno sopra qui? Boom! Mori, giocina! L'altro sotto? C'ho un colpo! Posso fare di tutto con colpo! Tipo un San Cesaro! Sì! Uno sentite! Non mi sembri tanto forte con il car! Guarda! Oddio! Fate uno di uno! Paggiori! Uo, il nemico in volo! Oh! Che cos'era? Glippate! Jack! Che cos'era? Glippate! Non lo so! Ho visto... Ragazzi, glippate, per favore, mi è passata qualcosa davanti! E fa... E fa gliela avete una glippetta! Quanto è scontata a sti punti della partita, sapete giù stanno i nemici? E' veramente troppo, troppo scontata... A parte... E' vero! Quanto è giù sti punti della partita, sapete giù sti punti della partita! allora con 10 9 8 7 6 5 2 1 il conteggio perfetto il contatore di san cesareo dai 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 la cesareo l'avete fatto bene avete fatto il venitario mi hanno destabilizzato jack il parroco di benedica nel nome del siamo uguali sta succedendo un macello a just it giusto se non si è mutato andy non si è mutato stanno facendo una palanca di ordini a nome mio mi stanno mandando al negozio ho pagamento alla consegna e da ieri che continuano io come posso risolvere sta cosa perché io non sto facendo nessun ordine perché se tu contatti just it e prende l'ordine dal profilo mio principale vedi che non ce n'è stato nessun ordine e infatti è quello che le sto dicendo andy non dipende da noi purtroppo noi siamo un servizio di just it e non possiamo fare nient'altro per aiutarti allora guardi di solito sono i troll i troll sono dei tipi di individui che veramente vengono da harry potter non so se hai mai visto harry potter esatto sono i troll di harry potter ma io comunque in caso non sto nemmeno studio quindi alla fine la mandano al negozio nemmeno a dire il problema è che non può fermarli i troll di harry potter eh ma non puoi dire a just it di bloccare qualunque no assolutamente no qualunque sti cavoli eh no no andy le pare ma le pare che non possiamo fare una cosa del genere e che come faccio a contattarli? allora devi toccarli con un dito il sinistro il sinistro non il destro è importante perché il sinistro potrebbe essere molto più potente a livello psicologico ok però non si ricorda dove è il dito? certo certo però mi dispiace pure per voi i ristoranti che è da ieri che mi mandano 7-8 ordini ieri mi hanno caricato i due da 100 oggi ecco è colpa e altri tre sono questi troll della montagna fa anche rima altri tre prima di te lo so lo so mezz'ora 3x3 3 ristoranti 3x3 9 è il lavoro però che cazzo eh no si contenga si contenga si contenga per favore no assolutamente no non andiamo a insultare chi fa degli ordini per favore povera c'è no no non la può chiamare signorino lei non può chiamarla mi risocio completamente a questo tipo di ma povera che mi consigli? le consiglio di andare a quel paese grazie prego si ricordi eh quel paese va bene io intanto cerco di contattare te fai la segnazione pure te così almeno magari bloccano a ste cazzo de sopra blu vada a quel paese vada a quel paese grazie tranquillo è rimutato è rimutato eh non so l'ero mutato stava parlando al telefono mi si fai una mano raga? si sta salendo uno no 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 va bene guarda sono ricavato a tu ma c'è ok sono in due no? no 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 dai però dai ma dai dopo questo bucio di culo B, bro, io sto avanti, 30 minuti Non lo so, bro, non lo so Ma ti sei bancato? Non lo so, B, bro B, bro, sto avanti nel tempo Come cazzo è possibile? Non lo so, bro Hai cambiato l'ora al pc? Assolutamente no, bro Non lo so, bro Bro, aspetta, c'è qualcuno che mi sta... Oh, regalo, no, no, no Oh, porcozio, mi sono cagato sotto Oh, porcozio, mi sono cagato sotto Oh, no Mamma mia mamma mia che schifo dottore mi deve ho un piccolo brufoletto sulla chiappa cosa devo fare per dominare il dolore interchiappale? sicuramente non pensarsi durante il game dottore chiami un dottore dottore chiami un dottore sei che in serio ragazzi lo sono so come se stessi nella tazza del cesto nella tazza di gioca è imbarazzante se non faccio un casino mamma mia a sinistra casetta brutta non calo no bro mi sto ancora mirando mi sto ancora mirando ragazzi 3 2 1 salto sinistra flash dai dai amore dai dai mamma mia il cecchino dì san cesario ma uh uh il salto sinistra è meglio ma uh ma uh ma uh ma uh arriva arriva che papagna istacopista ma su istacopista non facile vabbè ma buona cosa ne spacco ma chi è questo è giovanone io non capisco se è giovanone ragazzi non è giovanone perché me vuole uscite può essere giovanone ragazzi ma io lo rompo io lo rompo io lo rompo te rompo il game non è merda tomo te ne attacco due te ne attacco due due sentex te ne attacco te ne faccio volare devo riuscire a fare o c'è un altro game vabbè non ci credo adesso godo godo si tu smart tu smart ragazzi scusate c'è da nulla c'è da metterlo ragazzi oddio si si dai bella questa rega queste sono 20 euro 20-30 euro si bella culo l'ultimo pacchettino si bellissima quelle che escono così mamma mia dai goto bella culo rega si guardate che bello bello culo rega buoni tutti buono goto zanzetta zanzetta ole e dai cazzo vieni qua fermi tutti oh no no ci fa ammazzare ci fa ammazzare così ci fa ammazzare ci fa ammazzare ci fa ammazzare eccozio però e dai però affanculo mi piace questa cosa che è stata appena fatta giovanone 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 ragazzi porterò il corpo di giovanone al cimitero lo porterò al cimitero fermi tutti ti porterò al cimitero giovanone giovanone ti porto al cimitero giovanone giovanone ti ci porto siamo quasi arrivati al cimitero giovanone giovanone ti porto al cimitero siamo quasi arrivati al cimitero giovanone giovanone ti scaricherò dove meriti non meriti di morire su queste strade pericolose e impure eccolo ti sto portando al cimitero giovanone giovanone ti scaricherò qui nella tua tombetta giovanone sto per penetrare No Giollone Camp 9 3 Si lo sai Clappando Clappando e dabbandosi A non finire Insieme a Magic Mama Si Uuu Sorbetto a limone Sei proprio un coglione Tempesta 07 E' proprio quel che fa fette Ia Io prendo fiato fra Non ce la faccio più Sto per arrepar La trap è quella che ci piace Si la più vivace Insieme a Giollogogolino Si è quello che harà Lo cuace Panda TV Come quel servizio Che davano dove Alla TV E quindi TV Team Book 2 Ci vado prendo il biglietto Flyo a Rua Folgore 07 Sempre loro Militari si Bam Un lingotto d'oro Insieme a Sick Omi Omi Bello Come Omi Otoll Che non fa mai il monello Insieme tu lo sai Rei 9 E Ah E' andato alla Y Non si ferma proprio qua R Bandito Sempre esagerato Arriva nel covo dei pirati E' spietato Sergio Betto si Come il sorbetto qui Questo rap non finisce mai Ma io sono con